Il Presidente del Consiglio regionale Nazario Pagano ha presieduto oggi a Roma, nella Sala dei Gruppi della Camera dei Deputati, la prima riunione del gruppo di lavoro sulla sussidiarietà della Calre. Questo gruppo di lavoro, ha spiegato Pagano, è entrato in una nuova fase che ha come obiettivo principale quello di supportare le assemblee legislative regionali nella verifica dell'attuazione del principio di sussidiarietà da parte della normativa europea. A questo fine verranno indicate sia le proposte di atti europei che i metodi attraverso i quali verrà successivamente attivata la verifica nelle commissioni consigliari di ciascuna assemblea regionale europea. Proprio per favorire questa nuova fase di azione concreta dei processi della sussidiarietà, oltre ai presidenti delle assemblee legislative europee che hanno aderito al gruppo di lavoro, per la prima volta sono stati invitati a partecipare anche i presidenti delle commissioni affari europei dei consigli regionali. Ai lavori del gruppo ha partecipato anche il direttore del network sussidiarietà del Comitato delle Regioni, Thomas Wobben, che supporterà il gruppo di lavoro a futura attività di verifica.